ciao io sono lorenzo ciscetti in questo video ti parlo di cosa fare se sei sempre alla stessa qualifica se sei sempre o almeno da un po di tempo fermo o ferma al livello ok in cui ti trovi cosa devi fare allora dal mio punto di vista io sono profondamente convinto che questo si ricollega al concetto di termostato o termometro finanziario che ho ripreso dal libro di t.r. wacker praticamente dice che ogni persona è abituata a un certo livello di reddito quindi e io ogni tanto quando parlo con le persone mi accorgo che la maggior parte delle persone sono abituate a un certo livello di sono diretto a un certo livello di povertà cioè che cosa significa significa che se una persona se ha un problema a fine mese di qualche centinaia di euro se ha un problema alla macchina se ha un problema a un dento qualsiasi imprevisto e se ti trovi in difficoltà allora significa che diciamo c'è qualcosa da cambiare ma questo vale per veramente per qualsiasi livello di guadagno io la mia esperienza con il mio team e personale ma anche con le persone che entrano e che quando le persone raggiungono un livello di guadagno che le fa rilassare quindi magari potrebbe essere 500 potrebbe essere 1000 potrebbe essere 2000 potrebbe essere anche molti più soldi di più al mese tendono a fermarsi e a rilassarsi cosa che ci può stare ovviamente noi siamo liberi di decidere quanto guadagnare ma se vogliamo andare al livello successivo dobbiamo creare dei meccanismi psicologici che ci permettono di farci sentire poveri a quel livello cioè io per esempio ho creato dopo essermi fermato a diversi scalini mi sono fermato per qualche mese a diversi scalini di guadagno cerco di cosa faccio per andare a livello successivo cerco di crearmi dei meccanismi che mi facciano sentire povero a quel livello come faccio cerco di andare di mettermi per esempio in contatto con le persone che guadagnano più di me di parlarci di passarci del tempo uno quindi di vedere che cosa le persone fanno punto numero due costruirti anche un un obiettivo una cosa importante per te io mi ricordo una volta mi volevo comprare la macchina mi volevo comprare l'audio a4 l'ho stampata a colori la stampante a colori l'ho stampata l'ho ritagliata e me l'ho messa vicino al computer ok vicino al posto dove lo vedevo dove lo vedevo spesso questo fa in modo che va fatto in modo che a un certo punto io la vedevo la vedevo la volevo mi sono dato da fare per guadagnare quei soldi che servivano per comprare la macchina un altro segreto che io faccio che io ho per andare alla qualifica successive quella di mettermi dei segnali ok questa è la qualifica non so se vedete si chiama pmd nella mia azienda è la qualifica è la qualifica più alta io sono arrivato alla qualifica in questo momento la qualifica leggermente la prima qualifica inferiore a questa cosa ho fatto per arrivare alle qualifiche successive mettevo una targhettina c'era una sotto una sopra il computer della scritto proprio a con un colore ben con colori ben definiti li tenevo sempre davanti alla faccia quindi ogni volta che io parlavo con le persone ogni volta che facevo un hangout ogni volta che mi mettevo a contattare qualcuno in qualsiasi azione che facevo io nella mia testa ero già la qualifica successiva perché per raggiungere la qualifica successiva dobbiamo per prima cosa esserlo nella testa quindi il punto numero tre è vivi respira parla comportati e soprattutto pensa come la persona che dovresti essere per raggiungere la qualifica successiva questi sono tre suggerimenti importanti per superare il tuo livello di impasse e per andare al livello successivo io mi auguro che questo video ti sia stato di valore se ti è stato di valore per te clicca mi piace lascia un commento condividilo con le persone del tuo team che ritieni a cui ritieni possa essere d'aiuto e ci vediamo al prossimo video ciao e un abbraccio